salve a tutti ragazzi oggi entro in palestra e benvenuti nel giorno che sarà per voi il diciottesimo oggi sarà schiena e braccia in questo momento voi starete dicendo ma il giorno diciassettesimo è la schiena e braccia se ci stai prendendo in giro so che probabilmente non frega un cazzo a nessuno però in poche parole gli scorsi giorni non li ho registrati perché sono solo una testa di minchia ecco questa è la risposta e quindi ho rincominciato da qua e quindi adesso vedrete il giorno diciotto che è tipo come il giorno diciassette schiena e braccia niente di più niente di meno mi dispiace scusatemi ragazzi primo esercizio incominciamo con rematore rematore facciamo un 4x6-8 bello pesante vediamo di fare con 90 kg vediamo un po dai 100 kg di rematore 170 kg adesso questa è la terza serie di stacchi e sempre 6 ripetizioni sono 6 o 8 ripetizioni penso che ne farò 6 però e stacchi da terra per schiena quindi che è la terza serie di stacchi e sempre 6 ripetizioni sono 6 ripetizioni sono 6 ripetizioni 8 alla fine let's go adesso ragazzi ultima serie di t bar con 90 kg puntiamo alle 10 ripetizioni e 3 serie da 10-12 e niente vediamo ok ultima serie di trazioni 3x8-10 e ne farò probabilmente 8 ho la schiena che sta implodendo giustamente e niente facciamole 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 ok ragazzi ha cominciato il braccio adesso tricipiti push down col triangolo nella macchina 4 serie 12 ripetizioni quindi 60 secondi di recupero un minuto di recupero e questo è così ok ok adesso siamo a mettere i cibiti in french machine 12 ripetizioni 4 serie 45 secondi di recupero e facciamo un po' di cibiti in Sì, sì, sì. Ok, adesso arms curl ai cavi alti, per bicipiti ovviamente, 12 ripetizioni, dagli! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Per la serie, questo è il diciottesimo video, possiamo dire concluso, bella! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.